La laurea a vecchio ordinamento nei concorsi pubblici darà due punti in più rispetto alla laurea breve. La decisione, per certi versi storica, è stata pronunciata dai giudici del Tarlazio che hanno accolto il ricorso di una candidata siciliana al concorso all'ufficio per il processo presso il Ministero di Giustizia. La donna, assistita dagli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, ha mantenuto il posto nonostante una concorrente di Caltanissetta avesse proposto un ricorso per ottenere la rettifica della gradatoria e quindi un punteggio maggiore. I giudici del Tarlazio hanno ritenuto fondata la tesi degli avvocati, in quanto la laurea del vecchio ordinamento viene considerato un titolo superiore rispetto a quello richiesto per l'accesso al concorso pubblico.